Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo BD in un suo nuovo video. Naturalmente, come sempre, ricordo di subito, di like, di iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale Telegram. Bitcoin inizia letteralmente a muoversi, riraggiungere la zona di 57.000 dollari, però attenzione anche alle altcoin, soprattutto il settore meme sta iniziando a scaldarsi. E per cui iniziamo subito. Per cui iniziamo subito a andare a vedere quello che sta avvenendo all'interno del mondo delle altcoin, perché ragazzi c'è stata una buona risposta a parte di Bitcoin sul giornaliero, più 4,1%, ma vediamo che i top gainers di giornata sono Phantom, più 11,2%, WIF, più 11,8%, Tao, più 10,2%, quindi come sempre troviamo tra le principali categorie che vanno a spingere di più all'interno di questo mondo cripto quando Bitcoin riparte, che cosa? Meme ed AI, ok? Queste sono secondo me le due categorie che in bull market o che splederanno, ovviamente fatemi sapere anche bene in commenti che cosa ne pensate, però finora stanno dando conferma, guardate qui anche FAT, più 9%, sono quelli maggiormente volatili, che quindi maggiormente interessanti. Ora andiamo a vedere quello che sta avvenendo su Bitcoin, in questo momento 57.200 dollari, siamo sempre all'interno di questo range che va tra i 73.000 dollari e i 53.600 dollari, vi ricordo essere qui proprio in supporto. E ora Bit sta rispingendo, che cosa potremmo assistere? Secondo me la situazione è sempre quella, fino al 18 settembre, e sottolineo 18 settembre per gli effetti li vedremo successivamente, quindi in seguito all'FOMC, io mi aspetto la realizzazione. Proprio in brevissimo potrebbe esserci, secondo me è una bella risposta da parte di Bit, perché guardate qui che bel touch, e io lo sto sottolineando da tanto tempo, se noi andiamo a vedere il weekly RSI, qui in zona 45 noi abbiamo tacciato, guardate qui, abbiamo tacciato letteralmente, nuovamente, cosa che avvenne già il 4 settembre, quando si fece proprio bottom confermato, che consolidato, e poi si prese e ripartì. Quindi che cosa mi aspetto? La stessa identica struttura. Quindi qua bottom secondo me confermato, e prenderemo e ripartiremo. E quando si riparte ragazzi, la ripartenza è forte, che vorrei dirvi questo. E tra l'altro, anche chi è dentro al gruppo caboli, lo ricordo, ieri abbiamo fatto una bella analisi di quelli che saranno i prossimi FOMC, e secondo me l'effetto dell'abbassamento dei tassi interesse durerà per più tempo, che quindi non è che durerà solamente la giornata 18, ma avremo più FOMC nel corso del tempo, che secondo me andranno letteralmente abbassati i tassi interesse, i quali andranno anche a favorire i mercati. Vi ricordo che noi trabbiamo anche le elezioni americane, o che quindi vincesse Trump, secondo me andiamo super bullish sulle cripto. Questo potrebbe essere un ulteriore catalizzatore. Doviché andiamo a vedere quello che sta venendo su Bitcoin, sul giornaliero, anche qui siamo sotto tutte le medie mobili. In particolare abbiamo un livello sui 64 mila dollari al momento come resistenza, quindi insomma secondo me andremo ad attaccare senza problemi la zona di 59-60 mila. Poi bisogna vedere se Bitcoin avrà ancora forza. Però pre-FOMC vedere un bel pump può essere interessante, soprattutto se avessimo la rottura di 64, ma tanto noi ci aggiorniamo giornalmente, in caso di rottura di 64, lì sì che veramente sarebbe bullish pre-FOMC. Quindi attenzione, attenzione perché a me piace quello che sta succedendo in questa fase di mercato. Doviché notizia tra l'altro per quanto riguarda Trump da parte di Watcher Guru. Analisti affermano che se Trump andrà a vincere le elezioni americane, Bitcoin potrebbe raggiungere i 90 mila dollari. Ora non è che li andrà a raggiungere così secondo me in una giornata. Insomma 90 mila dollari sono tanti. Però visto quello che è avvenuto già in passato, soprattutto su notizie di questo calibro che è bullish, è fattibile o che è qualcosa di questo tipo. Dopodiché vi ricordo, ok adesso andremo a vederlo, anche l'Indonesia si apre il mondo crypto, e qua Veshan Crypto va a scrivere, c'è un po' di domande in Indonesia, perché guardate qui Binance ha ottenuto la licenza anche in Indonesia. Quindi l'Indonesia ovviamente non è che negli Stati Uniti, la Cina, ma sicuramente è un paese in più dove si andrà a operare, soprattutto asiatico, e quindi direi molto interessante questa notizia anche per quanto riguarda noi del mondo crypto. Dopodiché andremo a fare oggi focus anche su Doge, ok andremo a vederlo, però attenzione perché c'è questa nuova coin di .o, .g, .e, che l'abbiamo guardato anche dentro di Kupukawi, proprio con la live apposita, che sta spingendo e ci sono volumi, e da quando Elon l'ha twittata ci sento che ha fatto veramente i binumeri, quindi attenzione, questa coin quale andremo a vedere, ma ora volevo anche parlare con voi di Ethereum, perché Ethereum è letteralmente, non dico solo un treno, però quasi, però ha confermato questo supporto del 2100, quindi anche qui da parte di Ethereum siamo su daily, ma aspetto bella risposta, avete qui addirittura la media a 200 periodi, questo aumenta a 2,9, io l'ho detto più volte, come secondo me quando Ethereum andrà a rompere i 2,8, possiamo iniziare a pensare che le halconi andranno a spingere forte, quindi ci vuole assolutamente il ritorno di Ethereum sui 2,8, ma soprattutto andremo a vedere anche quello che è il livello di halcon index, perché siamo ancora a bassi, ok siamo letteralmente in Bitcoin Season, guardate qui, per quanto riguarda le 9 giorni, quindi halconi ancora letteralmente deboli, soprattutto siamo ancora deboli su annuale, che un po' si è alzato, ok livello di 37, sull'annuale, però siamo ben lontani dai livelli di 75, che indicano halcon year, dopodiché andremo a vedere anche Bitcoin Dominance, Bitcoin Dominance che in questa fase di mercato, ha più volte tacciato a livello di 58, non riesce a romperlo, e questo potrebbe essere proprio interessante, in ottica a futuro di high season, perlomeno in mini high season, magari potrebbe sprigionarsi, fino a livello secondo me almeno di 55, ok vista la media mobile a 200 periodi, che poi è sempre stata tacciata, anche in alcuni archi temporali, quindi stiamo a vedere, potremmo avere letteralmente una mini high season, ora prima di andarvi a parlare delle coin, vi ricordo anche di assumere per promo la parte di Bitget, se non sei iscritto a Bitget, ti lascio sotto il link in descrizione, ok, perché praticamente, che cosa hanno gli iscritti di Bitget? Allora in base alle missioni che vi andate a compiere, eccolo qua in questa fase, se vi verificate, ok, avrete un giro di giostro, che sono l'ultima di fortuna, dove potete vincere questi premi, ok, se depositate 100 dollari, un altro giro, se ne depositate 1000, ancora un altro giro, e così a seguire, diciamo, tutte, quindi guardate quanti, insomma, giri potete letteralmente avere, io ti lascio sotto il link in descrizione per la promo, e ora andiamo a vedere, le altcoins, dopodiché andiamo a vedere il mondo meme, che dal mio punto di vista è quello più interessante, vediamo un più bel 7.2% su giornaliero, capitizzazione totale di 41.7 miliardi, quindi si ritorna nuovamente sopra i 40 miliardi, e già da un po' ragazzi che stiamo letteralizzando, tra i 40 barra 50 miliardi, e necessitiamo, ok, letteralmente di un'esplosione, vediamo Dogecoin, recupera i 10 centesimi, quindi attenzione a Doge, ottimo, da un punto di vista anche, psicologico per il principale meme, tra quelli esistenti, 10 centesimi 4, troviamoci bene i numeri di A3,55, Peppe A7,50, quindi in generale abbiamo visto una bella risposta, ok, sui meme, questo è un ottimo elemento, vediamo anche Bome, più 7%, insomma anche i gatti hanno letteralmente risposto, e non lo savi come, attualmente quella che è la situazione di Doge, cioè, avevamo avuto, è sicuramente interessante, andare ad analizzare tutto questo, avevamo avuto, precedentemente durante Bear Market, un supportone in zona 5,5, ok, ed era stato confermato questo bottom, ora, che cosa abbiamo visto, e stiamo vedendo, dal mio punto di vista, che è un altro bottom, è arrivato che su Doge, esattamente questo qua, quello dei 9,2, quindi, il fatto che la Dogecoin sia tornata in due pa cifra, il fatto che la Dogecoin abbia un trend discendente, o che di lungo periodo, perché dura dal 28 marzo 2024, quindi andremo tra poco a chiudere, ok, i sei mesi di letterale discesa per Doge, potremo avere un'inversione in caso di rottura, anche di questa media mobile, ok, che è sui 12 centesimi, quindi attenzione a Doge, perché in caso di creazione, anche di nuovi massimi, ok, crescenti, potrebbe essere letteralmente cambiato il trend, e questo, diciamo, ci viene confermato, anche dal fatto che, comunque, Doge ha avuto un buon supporto contro Bitcoin, giorno è a 64, in questo momento siamo a 187, quindi, molto interessante, anche la prospettiva, Doge contro Bitcoin, secondo me, è veramente interessante, dove chi andrà a vedere, anche quello con tweet, secondo me, importante, ok, perché non so se vi ricordate, però il buon Elon, ha vaduitato Doge, ok, che sta per Department of Government Efficiency, cioè, in caso di vincita di Trump, ok, le elezioni, lui ha detto, io operrò Elon Musk, all'interno di questo governo, e cosa è successo nel mentre, che hanno creato una nuova coin, ok, Department of Government, e tutte queste cose qua, il discorso è che, questa coin, all'inizio, creò letteralmente morti, cioè, fece un meno 97%, quindi, quando vi parlo di tolleranze, intero mondo cripto, bisogna verne tante, soprattutto su queste coin, si va a investire poco, quel discorso, se qualcuno, avessi investito in queste zone qua, i rendimenti, inoltre a mai, sono stati, del 21.000%, in giro di pochissimo tempo, ora, c'è stato un bel scarichino, che comunque, dal top Department of Government, ha scaricato, un giro del 3%, quindi, potrebbe essere interessante, anche perché, con una market cap, di 8.48 milioni, con i volumi che ha, sicuramente, può essere anche interessante, quindi, stiamo a vedere un po' quello che succederà, però, questo, è un po' quello che sta succedendo, su Department, che abbiamo visto anche, all'interno del gruppo Cowboy, abbiamo anche costruito una strategia, e, voglio mostrarvi anche, quello che sta venendo su Pepe, perché, attenzione, Pepe aveva un importante supporto, in zona, parimento 800, e in caso di rottura di 800, potremmo arrivare a un Pepe Bullish, quindi, insomma, attenzione a Pepe, perché è molto interessante, soprattutto, vi ricordo, che c'è la sua, amica, ok, Brett, migliore amico di Pepe, che l'ho definito, sempre come un Pepe Leva, che, secondo me, potrebbe fare maggiori numeri, rispetto a Pepe, che invece ha rotto, perché questo supportone, quindi, attenzione a Brett, perché, torna a essere, diciamo, invitante, e poi, un'altra coin che sta riprendendo, è anche Bome, guardate qui, siamo a 6,6, insomma, più volte è testato anche, la zona di 8,5, e, secondo me, Bome andrà a riprendere, perlomeno questa zona, prima di eventuali scarico, quindi, stiamo un attimo a vedere, infine, ti ricordo che, 6 ottobre 2024, andrò a tenere, il mio terzo evento, a Sesson, provincia Reggio Emilia, presso agri turismo al Bove, quindi, se vuoi iscriverti all'evento, ti lascio sotto la linea di iscrizione, ok, quindi, vattelo a vedere, e, in più, se volete entrare dentro il gruppo cavo, invece, vi ricordo, che c'è sempre da effettuare, ok, da quel come, per vedere, se siete idonei, o no, per entrare dentro il gruppo cavo, ma soprattutto, per capire anche quelle che sono le vostre aspettative, e soprattutto, anche i vostri bisogni, le vostre esigenze, e per questo video, ti ricordo di, di suscrittare il like, di iscrivervi al canale, e noi, ci vediamo, resto, hasta la vista, home, be,